Ci chiederemo poi per tutto l'anno cosa abbiamo visto e cercheremo un anno per capirlo e poi inizierà un'altra settimana uguale. Qua anche questo è Milano, ma oggi è martedì e come tutti i martedì parleremo di periferie. Lo facciamo in compagnia di Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati. Speriamo che il nostro ospite riesca a raggiungerti. Walter Cherubini. Siamo un po' spettacolare, siccome si occupa di teatro. Magari stanno per comparare un'entrata spettacolare. Infatti magari non siamo noi che non l'abbiamo capito, non siamo noi che non l'abbiamo colto. Non siamo dei teatranti. Per quello. Walter Cherubini, consulta periferia in Milano. Oggi parliamo di teatri, parleremo poi di teatro specifico, il teatro La Scala della Vita che appunto ci sta per raggiungere. Ma insomma, il tema dei teatri e la periferia è un tema molto caro alla consulta periferia in Milano. Diciamo questo, io lo configurerei in una situazione un pochettino più ampia. perché se noi ragioniamo nei termini di teatro, è come se in una casa ragionassimo nei termini del balcone, che magari è anche un aspetto appariscente, però in una casa dobbiamo guardare tutte quante le connessioni, perché uno entra dalla porta d'ingresso, ora che arriva al balcone, che cosa trova in mezzo? Ecco, perché la periferia è esattamente una costellazione che deve essere curata giorno per giorno. Allora, i teatri che a Milano, nelle periferie milanesi, diciamo nelle otto zone periferiche, cosiddette zone periferiche dalla otto alla nove, vedono la presenza di centonove tra teatri amatoriali e professionali. Quindi questo è un patrimonio enorme per le periferie. Ma come le periferie usano di questo patrimonio interessante? Perché uno può avere anche un bel balcone e poi non andarci mai. Oppure il balcone diventa uno scapuzzino. Infatti vediamo anche nella nostra città facciate balconate dove c'è di tutto di più, il che dal punto di vista estetico non è una gran bella cosa. Però al di là di questo dettaglio, il punto fondamentale è dire bene ci sono i teatri, ma allarghiamo l'orizzonte a quelli che sono un pochettino gli aspetti culturali, le presenze culturali, perché tutte queste presenze possono creare esattamente una, chiamiamola così, pressione osmotica, ed essere al servizio della città. Allora, noi abbiamo fatto come consulta periferie Milano, in questi ormai 13 anni di lavoro intenso e continuo, una mappatura perché la prima cosa è conoscere quelle che sono le ricchezze, le potenzialità, ma meglio, più che potenzialità, le presenze operative nella nostra città e nelle periferie. Perché è da qui che bisogna partire, anche se si vuole fare una politica attenta alla complessità della città. Se continuiamo ad andare, a guardare dal centro alle periferie, abbiamo visto che nelle periferie si arriva ogni tanto e francamente anche molto spesso male, ma perché c'è proprio una disattenzione complessiva e una non conoscenza complessiva. Allora, l'altro aspetto è quello di associare le presenze culturali che ci sono nella città, che sono le associazioni, i centri culturali, ma anche le biblioteche. Allora, noi abbiamo una presenza sul territorio delle otto zone periferiche di circa 330 soggetti, che sono un patrimonio molto importante. fanno tutta una serie di iniziative, ma la cittadinanza, i 1.350.000 residenti dichiarati a Milano, come fanno a conoscere queste iniziative? Questo è il tema fondamentale della comunicazione. Noi continuiamo a investire anche cifre importanti, ma c'è questo tassello della comunicazione tra chi promuove iniziativa per la cittadinanza e il cittadino, tra virgolette, della strada che non riesce a conoscere quello che viene fatto, perché a Milano sono tantissime le cose, uno guarda solamente all'interno del proprio quartiere o nei quartieri limitrofi e vede che appunto ci sono tante iniziative e tanti soggetti. Ma come fa allora a conoscerlo? Questo è esattamente il tema. E qui l'amministrazione comunale con il piano periferie deve esattamente sciogliere questo snodo. Interessante anche vedere appunto da quella mappa che hai fatto vedere prima a Walter come in realtà l'offerta culturale in periferia è davvero vastissima, varia e ricca soprattutto. E qualificata. E di qualità, e quindi davvero viene a pensare che è tutto uno spreco, questo spreco di energie nel non riuscire a mettere a sistema e mettere insomma in un unico grande comunicazione tutte queste realtà. Direi proprio di fare una comunicazione adeguata chiamiamolo banalmente al cittadino della strada. Allora il cittadino della strada che cosa fa? Frequenta i social, cose di questo genere. Se dovesse seguire i social dei 109 teatri sul territorio periferico diciamo che allora sta tutto il giorno a guardare i social e poi non va mai a teatro. Questo qui è dato di fatto. Quindi il tema della comunicazione, una enfasi sui social è parziale, non è adeguata. Il cittadino della strada si muove innanzitutto per il proprio quartiere, poi frequenta alcuni ambiti, noi per esempio diciamo i mercati comunali e poi per esempio in buona parte frequenta che cosa? I mezzi di trasporto, la metropolitana in particolare che ha una presenza piuttosto interessante perché il numero delle fermate delle quattro linee metropolitane sono circa 60 e quindi abbiamo 60 luoghi dove centinaia di migliaia di persone transitano ogni giorno e potrebbero tranquillamente vedere su una parete che è di una società pubblica del comune di Milano tra le altre cose, una parete dedicata esattamente a questi avvisi noi diciamo generalmente a tutte quelle iniziative a titolo gratuito, ma non solo perché poi bisogna aiutare le presenze non è che si può invocare fatte teatri in periferia ma poi ognuno si arrangia. Noi siamo fortunati in realtà perché poi siamo in una zona quella ovest dove abbiamo degli eccellenti teatri di questa zona che insomma abbiamo la fortuna di avere ancora. Ci sono altre zone che invece questa fortuna non l'hanno più e appunto di questo oggi parleremo ci lasciamo per pochissimi secondi vi lasciamo in compagnia della nostra Meteocam in diretta live dal tetto dei nostri studi e fra pochissimi secondi di nuovo qui in studio con il nostro ospite. A fra poco! Ciao! 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 Grazie a tutti. Ed eccoci di qui di nuovo come promesso, insomma, splende il sole sopra Milano, ma non splende, sopra la storia che andiamo a raccontare oggi, diamo il benvenuto al nostro ospite Stefano Bernini, direttore artistico del Teatro La Scala della Vita, buongiorno Stefano. Molto piacere. Grazie mille di essere qui con noi, insomma, dicevo appunto, abbiamo appena visto noi dalla nostra meteocam che splende il sole sopra Milano, in una delle settimane più importanti di Milano, insomma, questa design week che sconvolge Milano come tutti gli anni, però insomma, non splende più il sole, diciamo, sopra il vostro teatro. Ancora, raccontaci un po' cosa è successo. Allora, a ottobre siamo stati convocati dalla città metropolitana, anzi no, dalla Macerano e Melloni, dall'ufficio della direzione della Macerano e Melloni, fatti bene i fratelli, perché hanno constatato che la convenzione del teatro era scaduta, nel frattempo alcune normative evidentemente sull'agibilità erano cambiate, quindi il teatro risultava non più agibile e in pratica dal giorno alla notte ci hanno chiuso il teatro, cambiando le serrature e lasciandoci fuori dal teatro con tutta la programmazione che stava per partire. Scusate, perché tutto questo voi, senza sapere niente prima, avvate pronta la stagione nuova, pronti già, che immagino anche, insomma, costi e non costi per mettere in piedi una stagione e dal giorno con l'altro vi ritrovate con la serratura cambiata. Esatto, esatto, noi abbiamo appena finito di stampare tutti i libretti e le locandine per la nuova stagione e siamo rimasti fuori dal teatro. Ecco, quello che mi sconvolge questa idea, nel senso, voi quanti anni è che eravate lì ormai? Allora, la prima convenzione mi pare che fosse del 2003. Ok, io non c'ero ancora, però... Un bel po', un bel po' di anni. Esatto. Ok, ci sta che la convenzione scala, ci sta che cambiano le regole di reagibilità, ma nessuno vi ha contattato prima? Assolutamente no. Insomma, quasi come se voi non esistevate, ma si sa bene invece che esiste questo teatro? Eh sì, ha avuto anche un riconoscimento da parte del comune, abbiamo avuto una benemerenza nel corso della consegna degli Ambrogini d'oro nel 2008, abbiamo avuto altri premi, l'Awar Premio che è stato consegnato poi al fondatore del teatro, che è il professor Guido Moro, con il Sipale di Bambini, che aveva creato questo teatro, dalle ceneri del teatrino del brefiotrofio che era ormai ridotto a magazzino. Perché appunto, ricordiamo appunto, in realtà la cosa molto bella del teatro Scala la vita è che prende lo spazio che era già in realtà un teatro una volta, un teatro all'interno dell'ospedale, che però ormai era stato messo in disuso, era un magazzino di effetti, giusto? Sì, sì, con la chiusura poi del brefiotrofio è stato completamente abbandonato e Guido Moro appunto l'aveva ritrovato come magazzino e aveva trovato poi dei benefattori per poterlo ristrutturare. Ecco, queste sono le foto del teatro del sorriso, si chiamava appunto, che era ad uso esclusivo proprio del teatro, dell'ospedale, dei bambini all'interno del teatro. Invece poi appunto nel 2003, insomma, si cerca di far rinascere e non si fa rinascere in un'ottica proprio più invece cittadina, prendono alla città. E anzi possiamo vedere lo stato attuale di un bellissimo teatro che è questo che vediamo nelle foto in questo momento. Al momento quindi, immagino che, insomma, state bussando a qualsiasi porta possibile, immagino. Nel frattempo il Fatebene Fratelli aveva esso stesso una convenzione per cui doveva restituire i locali alla città metropolitana e a questo punto la palla sembra che sia passata ormai completamente alla città metropolitana e infatti anche dopo un articolo che è uscito sul Corriere siamo stati contattati dalla città metropolitana che comunque era stata informata di tutte le situazioni, io personalmente avevo parlato con il vice sindaco della città metropolitana e domani dopo domani abbiamo un colloquio presso gli uffici della città metropolitana di Via Ripiceno per sapere quale potrà essere il destino e quali potranno essere poi i vincoli per eventualmente riaprirlo. Se non sbaglio, voi avete anche detto, se ci sono da fare dei lavori di ristorazione, di sistemazione, della messa di sicurezza nel luogo siamo disponibili a fare questo? Assolutamente sì. Quindi mi viene a dire, stiamo parlando anche di un teatro, adesso di Enrico ovviamente il direttore dirà magari, ma che comunque insomma funzionava e le sue risorse ce li ha? Sì, 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 assolutamente sì, anche perché essendo comunque in convenzione avevamo ovviamente dell'agevolazione e il sorto comunque come emanazione di una onlus e quindi avevamo qualche aiuto anche da parte del 5x1000 eccetera, riuscivamo a portare a termine una stagione completa per bambini con una ventina di spettacoli per bambini e una decina di spettacoli per adolescenti e adulti nelle fasce serali. Molto interessante appunto perché ad esempio lo scorso anno avete fatto parte anche del Festival Milano Off, avete fatto quindi io, è lì che ho conosciuto prima volta ad esempio il teatro La Scala della Vita e insomma un teatro davvero importante in una zona strategica della città, in una zona che viene a dire al momento anche abbastanza martoriata ad esempio dai lavori dell'M4, quindi insomma quartiere completamente divise a metà, ma è una cosa di stare a Berlino a volte con il muro che ti divide tra i due vicini di casa. Sono stati due anni duri, sì, per la mia vita. Adesso che finalmente insomma le cose sembrano andare un po' meglio, invece è questo il problema. Walter, a me viene sempre da chiederti qual è la morale della storia, no? Ma la prima morale della storia è che Milano non conosce Milano, ma questo lo diceva già Bonvesin dalla Riva, lo citiamo sempre nel 1288 e per quello che ha scritto un particolare opuscolo, in particolare dicendo Gli stranieri non conoscono Milano, ma il problema è che anche i milanesi dormono dei sonni abbastanza pesanti, pur essendo indaffarati, operosi o quant'altro. Allora, questo è il primo dato. In secondo luogo che le premesse, alle premesse non seguono quelle che sono le logiche conseguenze. Se io dico che bisogna porre attenzione alle periferie e c'è un piano periferie sia cittadino promosso dal Comune di Milano ma anche nazionale promosso dal Governo, quindi il tema delle periferie è, diciamo, dal municipio che è l'istituzione più vicina al territorio al Governo nazionale, che è quella più lontana, ma quella più importante per certi aspetti, tutti quanti condividono questa attenzione alle periferie. Poi che cos'è che accade? È che quando uno si muove nelle periferie si trova nei neandri e quindi noi abbiamo in particolare un teatro che è chiuso da sei mesi nella sostanza. Questa è la verità. Mi viene anche da dire che va a fare il paro all'altro teatro, ovviamente il teatro d'Inghiera, chiuso dalla parte opposta della città. Esattamente, abbiamo ospitato anche qui. Anche loro arrivano alla scadenza della Convenzione, poi per l'adeguamento delle normative strutturali, ma il problema è che in questo periodo qui, premesso che i problemi, e lo vediamo anche nel teatrino del Trotter, è accaduto, dove sono intervenuti nel mezzo dello spettacolo fatto dalla scuola i vigili, per dire guardate che qui non si può andare perché le cose non sono a norma. Va bene, non sono a norma, ma il problema è che lo si sapeva 5 anni prima che non fosse la norma. Allora, o noi guardiamo ai problemi e mettiamo insieme anche delle procedure per risolverle, perché altrimenti è il fai-da-te, dove in questo caso il teatro è la scala della vita che cosa fa e adesso si dibatte tra la Macedonia Meloni e la città metropolitana. Infatti io vi chiedo invece una terza istituzione, sapere se vi ha aiutato e se l'avete sentito. Il municipio. Il municipio ha detto qualcosa, si è fatto sentire, non è compito suo, lo sappiamo, però mi venrebbe da dire forse quello che più di tutti dovrebbe invece parlare, perché mi ha ricaduta, nel senso, è quasi vittima anch'esso di questo... Niente, nessuno... Il municipio 3 è giusto il vostro dito? Il municipio 4, ok. Il municipio 4, so che ci sono degli attenti assessori alla questione, quindi io spero che magari si facciano portavoce, perché sappiamo benissimo che non è responsabilità nostra, non è compito vostro, però insomma, mi verrebbe a dire, anzi, il municipio ha una ricaduta, i cittadini di quel municipio hanno una ricaduta, quindi insomma, che anche il municipio faccia sentire la sua voce. E forse sono proprio questi i casi, mi viene da dire, Walter, in cui il municipio deve un attimino alzare la voce e dire, ok, non è un mio capitolato, diciamo, di bilancio, ma voglio che, essendo il mio territorio, io abbia voce. Ma su questo avremo dei dubbi, nel senso che, se noi andiamo un attimino alla ricostruzione storica dell'assetto amministrativo del nostro territorio, questi territori qui all'incirca erano tutti governati fino al 1923 e prima nel 1873 con i Corpi Santi, erano governati da comuni autonomi e quindi gestivano loro il loro territorio. erano un po' come i comuni di Bresso e il settimo milanese che, per guardare le loro cose, diciamo, di ordinaria gestione, non è che vanno in Regione Lombardia o dal Comune di Milano. Ma gestiscono loro. Sono stati assorbiti da Milano, tutte le competenze sono state trasferite nel municipio a Palazzo Mario. Palazzo Mario. E quindi, quello che era l'istituzione che allora governava 8 km quadrati di territorio e che mano a mano si è stesa fino ad arrivare agli odeari 182 km, la struttura organizzativa è sempre la stessa. Quindi è chiaro che qual era il teatro del Comune di Milano con 8 km? Era il teatro alla scala. E quindi le politiche culturali anche, su che cosa si basavano? Esattamente sul teatro alla scala. Dopodiché c'è stato il lirico che fortunatamente è in fase di recupero anche con lo strumento del cantiere aperto e quindi invece di fare un cantiere che rimane chiuso per anni e anni e anni, oggi come oggi, lo si utilizza mano a mano in maniera tale che anche la cittadinanza capisca che cos'è che viene fatto all'interno delle transenne. Un po' anche come vengono spesi i nostri soldi che tutto sommato non guasta. Nello stesso tempo, con l'iniziativa della Fondazione Dioguardi, c'è proprio questa iniziativa di cantiere aperto e quindi mano a mano si utilizzano gli spazi per iniziative. È venuto anche lo stilista Maras a fare, diciamo, più che una sfilata, un evento artistico per dire poi come le cose si possono mettere insieme. Allora, questo è il quadro della situazione. Allora, quel territorio lì e i territori della periferia dovrebbero essere gestiti dai municipi in quello che è l'ordinario. Se poi c'è da spostare il Duomo di Milano, lo Stadio San Siro, ma nel momento in cui c'è una questione di un teatro che non ha 5.000 posti, di chi dovrebbe essere la competenza diretta, perché poi in ogni zona ci sono mediamente una decina di teatri e quindi è anche abbastanza semplice solo che abbiamo esattamente questa ripartizione e frammentazione di competenze e quindi come giudizio finale, così non la faccio nemmeno lunga, è Milano ha tutte le risorse per affrontare i problemi. Il tema è che siccome è tutto frammentato, i problemi rimangono anche quelli più banali che in questo caso sarebbero stati risolvibili perché non c'era nemmeno bisogno di qualcuno che desse dei soldi, perché chi è lì svolge una funzione pubblica in primo luogo per la Macedonio Melloni che è un ospedale diciamo al servizio di tutti. In secondo luogo anche nel quartiere avrebbero messo i soldi chi organizza questi spettacoli quindi a costo zero si trattava solamente di avere attenzione magari dicendo due anni prima guardate che c'è questo tipo di problema. Quindi il municipio è fondamentale da questo punto di vista. come avete questo incontro in ex provincia diciamo alla metropolitana, cosa vi aspettate? Cosa avete intenzione di fare voi? Di sapere se il teatro ha la possibilità di essere riassegnato al Sipario dei Bambini Onlus e quindi in tal caso di capire come muoverci e come risolvere le difficoltà. Ecco io dico anche precisare una cosa in tutto questo io ci vedo anche un danno fatto al Sipario Onlus insomma parliamo di soldi spesi preparati e tutto io adesso io so che anche solo stampare dei libricini costa e costa tanto per una Onlus sono soldi tolti magari ad altre attività che invece potevano fare altre insomma e in più una richieduta sociale sulla zona è in dubbio che c'è. Io secondo me cercherò appunto cercheremo il più possibile di starvi vicini cercare di anzi aggiornaci su tutto ciò che avviene. Stiamo continuando comunque con la nostra opera presso altri spazi le attività come dire tra virgolette più onlus del teatro che era un laboratorio all'intero dell'ICAM per l'istituto carcerario per le mamme che non possono usufruire degli arresti domiciliari con dei laboratori che stiamo proseguendo a favore e a ricaduta dei loro bambini. E' un laboratorio che ieri invece ha avuto un piccolo spettacolo all'interno dello spazio Lambrate che invece è dedicato ai ragazzi Down con cui stiamo continuando a portare avanti un lavoro congiunto con la GPD. Ah perché c'è anche la GPD, c'è con voi che so che avete avuto tanti laboratori, associazioni genitori, persone Down. Con i nostri costi con l'autofinanziamento stiamo utilizzando altri spazi per proseguire. Quello che è interessante è che a volte poi nascono anche delle sinergie che uno non si aspetta ad esempio con la Naba so che avete fatto una bellissima cosa che è banale nella sua semplicità ma geniale oserei dire tu vai a la Naba, studi per fare scenografie teatrali e tutto trova un teatro dove mettere le tue scenografie non esiste e invece esisteva il teatro a scala della vita dava la possibilità agli studenti della Naba di creare i fondali per il teatro e poi di metterli in scena quindi insomma di farli vedere di vedere il tuo lavoro sì, loro a fine attività chiudevano questi meravigliosi sipari li piegavano e li mettevano in magazzino adesso invece da due o tre anni li portavano a noi hanno fatto anche l'ingresso con un fondale nuovo li mettono in scena vedere veramente il proprio lavoro utilizzato che poi è quello che credo che ogni studente sogni di vedere ecco da ottobre neanche questo è più possibile adesso i ragazzi di Naba sono tornati a farsi il loro bello fondale una volta bello bello ci facciamo una foto davanti poi se lo chiudono e lo rimane nel magazzino dell'università insomma è una storia che sembrerebbe quasi inventata se uno non sapesse che invece queste storie ahimè ogni tanto a Milano succedono succedono quasi sempre in volte lo abbiamo visto quando sono uno o due enti che devono parlarsi e non si parlano minimamente ognuno va per la sua strada ma è proprio questo è proprio questo il tema perché noi partiamo da un sistema di regole che con le periferie non c'entrano nulla adesso lo dicevamo anche all'inizio trasmissione stiamo parlando di teatri ma il tema è quello di vedere nella loro concatenazione e complessità le cose se noi continuiamo a fare un'iniziativa che parte da delle regole che sono state magari fatte 50 anni fa dove c'erano delle situazioni completamente diverse e continuiamo ad applicarle a situazioni che sono modificate ma si va di bene se uno dovesse dire io perseguo una finalità burocratica di abolizione dei teatri e allora ci sta metti tutte le difficoltà che vuoi ma il problema è che si dice esattamente il contrario poi quando perché poi gli amici si vedono al momento del bisogno come diceva quello là quando c'è il momento del bisogno qual è la logica sono fatti tuoi non è che è competenza è competenza della provincia è competenza di quell'altro cioè nessuno si fa carico di allora per quello che noi parliamo di approccio sistemico perché il problema non è quello di fare la rete dei teatri che è difficoltosissima tra le altre cose si ne sono almeno 4-5 già fatte anche male ma se si vuole fare una si vuole dare la città la possibilità di esprimersi e di questa espressione farne donna a tutti gli altri perché sostanzialmente stiamo parlando di questo compresi i fondali degli studenti della nuova accademia di belle arti e allora bisogna un attimino rivedere i processi burocratici che non è che devono sparire ognuno fa quello che vuole perché regole sono importanti determinate normative le abbiamo viste sono state applicate introdotte perché ci sono stati degli incendi nei cinema che hanno creato dei morti e quant'altro quindi le cose vanno affrontate seriamente ma in particolare in questo caso c'era il problema di dire c'è una risistematizzazione di determinate logistica la risistemiamo invece no qui rimane magari abbiamo capito male da quello che avevano detto la stampa piuttosto che altro nella sostanza la Macedonio Meloni dice noi dobbiamo riconsegnare la città metropolitana lo spazio vergine sì e quindi tutto il teatro che è stato costruito dovrebbe essere smantellato dopodiché la città metropolitana quando avrà ricevuto lo spazio vergine smantellato dice va bene vedrò se sarebbe bello faccio un teatro qui siamo proprio milanesi fino in fondo fai di spalle titulaura punto però poi costa poi si fanno iniziative di promozione delle periferie sostanziano bilanci e quant'altro mettere è proprio nei meccanismi che bisogna intervenire in maniera tale che siano utili per tutti perché finché le cose vanno bene non c'è problema ognuno si arrangia da sé quando uno alza il dito e dice ma scusate ho qualche problema allora sono fatti i tuoi allora questo non funziona Stefano quello che possiamo dirti è che secondo noi non sono fatti i vostri anzi noi cercheremo il più possibile di starvi vicino e tutte le volte che avete bisogno di parlare alla città e di farci sapere anzi dove possiamo trovarvi adesso la vostra stagione è in giro in questo momento quindi alcune cose siete riusciti a trovare abbiamo avuto alcune ospitalità dove possiamo trovare le coordinate sul sito internet sul sito e sulla pagina Facebook ok allora trovate nei commenti a questa diretta trovate tutti i vari link e i vari tag davvero facci sapere come va domani il tuo intervento con la città metropolitana quindi facci sapere come andrà e poi vedremo come appunto fare per supportarvi il più possibile in questo vostro bisogno di sopravvivenza perché davvero è assurdo che venga chiuso un teatro così importante e soprattutto ripeto in queste maniere cioè non ha veramente senso è stato fatto è stato promosso un convegno nel giugno del 2017 dalla direzione del ministerio dei beni culturali e periferie futuro periferie la cultura rigenera un grosso convegno e Milano finì là con un grande allora l'immagine che era associata al titolo era esattamente di una piazza di una nostra città che stava esattamente di fronte al teatro ringhiera che era sempre stato un luogo abbandonato e utilizzato impropriamente dove passare non è che fosse una delle particolari vie da seguire ma grazie al teatro il teatro proprio là ha rigenerato l'ambito del quartiere e adesso il teatro in quei giorni stava chiudendo mentre c'era quando si sono presentati al convegno hanno detto sì bello quello che abbiamo fatto in questi dieci anni però scusate noi non abbiamo più la sede lì perché in quel momento non sapevano nemmeno dove andare non sapevano nemmeno dove andare ma qualcuno non è che gli ha detto scusate siccome lì noi dobbiamo intervenire vi diamo un altro spazio dei tanti spazi che abbiamo voti a Milano il fai da te e quindi hanno trovato ospitalità a loro in vari teatri quello che penso stanno facendo anche questo momento ma il dato importante per quanto riguarda la sottolineatura delle periferie è che quello spazio che era privato era privato non si poteva andare era la piazza ed era diventato uno spazio pubblico un luogo di incontro perché questa era esattamente la dicotomia pubblico privato il problema non è se al cappellino del comune allora è pubblico e se invece il teatro la scala è privato Walter ricordiamo a chi ci segue che di questi temi oggi ne parleremo ancora qua a Milano News ne parleremo questa sera ne parleremo sia in diretta facebook che dal vivo quindi potete raggiungerci qua perché questa sera c'è la seconda serata delle Milano Storytelling Nights e questa sera facciamo una specie di puntata offline di Corto Milanese Barbara Risi ci sarà anche Walter Cherubini si parlerà proprio di questo che cosa vuol dire fare arte cultura e spettacolo nella città di Milano oggi aprile 2018 esclusa la settimana del design perché vabbè questa settimana tutto vale todo gli eventi sono importanti riguardano alcuni quartieri di Milano se noi dovessimo fare la mappatura di Milano vediamo che tutto è concentrato nel centro più qualche appendice ma questo va bene nella città ci sta a queste cose il tema è che le periferie non sono né un evento né un prodotto ma sono una quotidianità con tante ricchezze una delle cose che mi permetto di citare è la riqualificazione che stanno facendo dei muri del Vittorio Veneto e Torre Conti proprio in in questa settimana dove erano taggate proprio un un disastro dal punto di vista estetico gli studenti 60 studenti hanno preso e in un progetto più ampio dove hanno avuto la scuola in una logica di didattica sul campo crediti formativi a scuola lavoro se passate in questi giorni vedete i ragazzi che stanno ultimando esattamente c'è il cantiere ancora i ragazzi che stanno dicendo ecco è un modo per utilizzare la scuola che ha una presenza significativa al servizio del territorio e dell'educazione degli studenti una cosa semplice perfetto allora siamo in chiusura abbiamo sforato di qualche minuto ma insomma il tema era importante io ringrazio i nostri ospiti grazie mille Stefano Walter noi ci rivediamo questa sera ormai siamo una coppia di fatto passiamo le giornate intere io e Walter insieme è un piacere io ieri ho festeggiato il 35esimo anniversario di Matteo e di acqua con noi però i 35 anni che mi sopporta poi salutiamo la moglie di Walter Cherubini speriamo di vedere questa sera qui ospite con noi allora dai va bene grazie mille Stefano anche a te tienici aggiornato hai questo compito va bene noi vogliamo sapere tutto quello che succede perché vogliamo darvi il più spazio possibile grazie grazie mille a tutti voi che ci avete seguito l'appuntamento come sempre è ore 18 il telegiornale della sera di Milano All News e questa sera le 21.30 Milano Storytelling Nights grazie mille arrivederci e a presto